Buongiorno e benvenuta a questo primo incontro del corso di formazione per docenti organizzato dall'Accademia delle Scienze di Torino e dedicato alla biologia e alle sue ricadute applicative. Purtroppo siamo legati a una modalità a distanza vista la situazione, ma speriamo che sia una modalità comunque efficace. Io mi presento, sono Silvia Perotto, sono professore di botanica all'Università di Torino e presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e dal 2017 componente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Io mi occupo di simbiosi da sempre, simbiosi del mondo vegetale a cui farò molto riferimento durante questo incontro e ho pensato di proporre un tema sulle simbiosi perché da una parte penso che sia un argomento non molto trattato nei programmi di scuola superiore, nonostante la sua importanza e dall'altra parte perché penso che in un momento così anche difficile di cambiamenti possa costituire un messaggio positivo per gli studenti e infatti la simbiosi dimostra nel mondo biologico come attraverso sinergie piuttosto che antagonismi si possono generare delle soluzioni nuove, per esempio di adattamenti ad ambienti difficili, ad ambienti che cambiano e quindi, ripeto, un messaggio tutto sommato positivo per gli studenti. Questi sono gli argomenti che vorrei trattare oggi partendo dalla definizione del termine simbiosi perché la definizione non è univoca e qui sono almeno due diversi modi di vedere questo fenomeno. Quello che però mi preme maggiormente è di illustrarvi come, al di là delle banalizzazioni che possono essere fatte nel fenomeno della simbiosi, la simbiosi rappresenti uno dei principali meccanismi in grado di generare delle novità dal punto di vista biologico e noi sappiamo che le novità dal punto di vista biologico, se hanno un significato adattativo e quindi chiaramente se vengono selezionate positivamente dalla pressione selettiva, sono alla base di quella che è l'evoluzione biologica. E infine, visto che questo corso di formazione è anche dedicato alle ricadute applicative, discuterò brevemente come le simbiosi siano effettivamente importanti anche dal punto di vista applicativo. Partiamo dalla definizione della parola simbiosi. L'etimologia è molto semplice, significa vivere insieme e questa accezione la troviamo in tutte le definizioni sui comuni dizionari. Qui vi ho riportato due definizioni in particolare perché sottolineano quella che è la diversa accezione che può essere data a questo termine. Mentre infatti la definizione del treccani è molto più asciutta, molto più semplice e limitata alla convivenza tra organismi senza ulteriori specifiche, nella definizione del garzanti la simbiosi è definita come quella forma di vita associata in cui ci sia un beneficio reciproco, quindi una definizione di simbiosi come di una simbiosi unicamente mutualistica. E questo è una delimitazione molto importante del tipo di convivenza che noi possiamo osservare negli organismi. Prima di venire a discutere un po' queste due diverse accezioni del termine, sottolineo che sia nella definizione della treccani sia del garzanti si parla di interazioni tra animali e vegetali, o tra animali tra di loro e vegetali tra di loro, lasciando fuori i microorganismi che vedremo sono di fatto dei protagonisti nei processi di simbiosi sia con organismi vegetali sia con organismi animali. Se noi andiamo a inserire la parola simbiosi in una ricerca su Google, queste sono le immagini che saltano fuori più frequentemente. Ora è interessante il fatto che utilizzando le definizioni che vi ho appena fatto vedere, di queste diverse interazioni non tutte possono essere definite simbiosi. E quello che vorrei fare nelle prossime diapositive è vedere un pochino più in dettaglio perché non tutte rientrano in una definizione di simbiosi, né quella che abbiamo visto più asciutta, tra virgolette, né quella che vede la simbiosi soltanto come una simbiosi di tipo mutualistico. Qui vedete riassunte le diverse interazioni che possono intercorrere tra organismi diversi. Lo schema è molto semplificato sia perché vengono considerati soltanto due partner dell'interazione, mentre in biologia sappiamo che ci sono interazioni molto più complesse, ed è anche semplificato per il numero di diversi tipi di interazione, qui vedete le tre principali anche se c'è una gamma maggiore di possibili interazioni. L'interazione è classificata sulla base dei benefici che ne ricevono i partner e quindi abbiamo il caso del mutualismo in cui entrambi i partner beneficiano dell'interazione, abbiamo il commensalismo in cui uno dei partner beneficia dell'interazione, l'altro non ha un vantaggio ma non ha neanche un danno, e infine il parassitismo in cui uno dei due partner beneficia dall'interazione mentre l'altro ne subisce un danno. Vi illustrerei questi diversi tipi di interazione con una carrellata di immagini, giusto per darvi qualche esempio. Questo è il caso del commensalismo e vedete che per esempio il caso dei pesci pilota è un caso di commensalismo, quindi non rientrerebbe nella definizione di una simbiosi di tipo mutualistico. Esempi nel mondo vegetale sono le piante pifite, che utilizzano altre piante come supporto per avere una migliore condizione di illuminazione, o la disseminazione zoocora in cui piante utilizzano animali come vettori per la dispersione dei semi. Questi sono alcuni esempi di mutualismo, partendo dall'impollinazione in cui la pianta vede migliorare il proprio successo riproduttivo e l'impollinatore viene ricompensato generalmente con dei composti ad alta energia, come possiamo trovare nel nettare. Il caso dei licheni, caso molto famoso, di un'associazione tra funghi e alghe unicellulari, oceanobatteri, in cui il fungo eterotrofo riceve dal partner fotosintetico prodotti della fotosintesi per il proprio metabolismo, mentre l'alga vive in una nicchia protetta e riceve dal fungo acqua e nutrienti minerali. E infine le simbiosi azotofissatrici, qui vedete dei noduli radicali di leguminose, che ospitano al loro interno dei batteri azotofissatori. L'azoto è un macroelemento essenziale per la crescita delle piante ed è spesso carente nel suolo, ma molto abbondante in una forma non disponibile come azoto atmosferico. In queste simbiosi l'azoto viene ridotto dal batteri che sono all'interno di questi organi formati dalla pianta, quindi la pianta riceve dal batterio azoto in una forma disponibile e il batterio all'interno di questi organi riceve prodotti della fotosintesi che ne consentono lo sviluppo, la moltiplicazione. Infine alcuni esempi di parassitismo, qui vedete dei fitopatogeni che attaccano le foglie di una pianta causando un malattia, mentre qui ci sono due esempi di piante parassite che ottengono dalla pianta ospite sia sostanze nutrienti sia acqua attraverso delle particolari strutture che sono chiamate austori. Qui c'è del vischio e qui vedete invece della cuscuta. Vista questa carellata di esempi, volevo fare una riflessione sulle due definizioni che vi ho dato originariamente del termine simbiosi e sottolineare come vedere la simbiosi soltanto come un fenomeno di mutualismo è complicato per motivi di tipo tecnico, quindi di tipo operativo, perché noi dobbiamo poter misurare quali sono i benefici che derivano da entrambi i partner dall'interazione e questi benefici non sono sempre semplici da identificare né da misurare. Questo è un problema più di tipo tecnico che quindi può essere risolto e un modo di risolverlo è applicare il concetto di fitness, dove noi non misuriamo necessariamente il beneficio diretto, quindi magari un aumento della crescita della biomassa, ma andiamo a misurare quello che è il successo riproduttivo dell'individuo in simbiosi rispetto a un individuo non in simbiosi e quindi in questo modo possiamo valutare se effettivamente c'è stato un beneficio che ha portato a un maggior successo riproduttivo. Ma quello che secondo me è il problema principale un po' il limite di questa definizione basata sull'esistenza di un mutualismo è il fatto che in natura ci sono dei gradienti, quindi noi abbiamo delle situazioni che possono essere più chiaramente definite come fenomeni di mutualismo, parassitismo, commensalismo, ma abbiamo anche delle zone grigie e delle zone di passaggio. Inoltre delle simbiosi che possono essere tipicamente basate su interazioni mutualistiche possono cambiare la loro natura a seconda dei fattori ambientali e vi porterei due esempi di simbiosi che sono classicamente viste come delle simbiosi mutualistiche ma che possono cambiare la loro natura proprio a seconda di alcune condizioni. In particolare il primo esempio che vi faccio è quella della simbiosi micoristica. Io non so se tutti sapete che cosa sono le simbiosi micoristiche sono delle simbiosi tra le radici della maggior parte delle piante terrestri e dei funghi del suolo che agiscono come sistemi di biofertilizzazione per la pianta. Quindi la interazione è mutualistica perché il fungo che è un eterotrofo riceve dalla pianta composti organici del carbonio che derivano dalla fotosintesi e la pianta beneficia dall'interazione perché il fungo con queste ife sottili che esplorano il suolo è in grado di assorbire dal terreno acqua e sali minerali che trasferisce alla pianta potenziando quindi la nutrizione minerale da parte della pianta e agendo come dei biofertilizzanti. Quindi questo è proprio un classico esempio di una simbiosi mutualistica per la pianta. Questa non è una simbiosi obbligata perché fornendo dei fertilizzanti la pianta anche da sola può tranquillamente crescere anche in assenza del partner fungino. Questo esperimento vi dimostra chiaramente come il vantaggio della simbiosi per la pianta dipenda molto dalle condizioni di fertilizzazione del substrato di crescita. Qui infatti passiamo da 0 quindi nessuna fertilizzazione a 4 che è il massimo di valori di concentrazione di azote fosforo aggiunti nel substrato e qui vedete che mentre in assenza di fertilizzazione le piante in simbiosi, le piante micorizzate hanno un tasso di crescita molto superiore alle piante non in simbiosi che praticamente non crescono, questa differenza va a ridursi man mano che noi aumentiamo la quantità di fertilizzanti nel substrato fino ad arrivare a una situazione in cui la pianta micorizzata non ha nessun vantaggio rispetto alla pianta non micorizzata e quindi siamo più in una situazione di commensalismo perché il fungo ovviamente continua a beneficiare dei composti organici del carbonio che la pianta trasferisce. Addirittura possiamo arrivare a delle situazioni in cui la pianta in simbiosi cresce meno della pianta non micorizzata proprio perché il fungo comunque attinge a queste risorse energetiche della pianta stessa. Quindi questo è un esempio che vi fa vedere come il mutualismo noi lo osserviamo seconda anche delle condizioni ambientali. Questo è un altro esempio che riguarda le simbiosi azotofissatrici. I noduli radicali delle leguminose sono visti molto classicamente come un tipico esempio di simbiosi mutualistica in quanto la pianta può grazie all'associazione con questi batteri azotofissatori accedere a questa risorsa di azoto che è l'azoto atmosferico che viene ridotto dai batteri all'interno di questi organi formati dalla pianta in una forma ammoniacale che può essere poi organicata dalla pianta stessa. Quindi il vantaggio per la pianta è indubbio. Meno chiaro il vantaggio del batterio soprattutto il batterio all'interno del nodulo radicale perché spesso lo sviluppo e il differenziamento di queste cellule batteriche è terminale quindi il batterio qui si moltiplica poi a un certo punto muore. Ma a parte questo c'è un discorso temporale nel senso che l'azoto fissazione ha luogo soltanto tardivamente nell'interazione quando si è formato questa struttura questo organo quando sono state messe in atto tutta una serie di modifiche biochimiche fisiologiche e quindi c'è tutta una fase durante la formazione del nodulo radicale in cui la pianta non ha nessun beneficio anzi deve sostenere dal punto di vista nutrizionale il batterio al suo interno. Quindi il nodulo radicale certamente può essere visto come un vantaggio per la pianta ma soltanto al momento in cui è funzionale. Tutta la fase precedente non è una fase in cui la pianta tragga vantaggio anzi deve impiegare energia per la formazione e il funzionamento di queste strutture. Questi due esempi che cosa ci suggeriscono quindi? Che certamente noi possiamo limitare le simbiosi ai fenomeni di interazioni mutualistiche però a questa definizione poi sono collegati una serie di problemi ed è per questo motivo che molti ricercatori, me compresa, preferiscono attenersi alla definizione originaria del termine simbiosi data da Anton De Bari verso la fine dell'Ottocento che è la definizione che noi troviamo per esempio nella Treccani di una convivenza, di un vivere insieme di organismi tassonomicamente diversi. Questa definizione tra l'altro deriva dallo studio dei licheni che proprio in quel periodo venivano identificati per la prima volta come il risultato di una simbiosi tra organismi diversi. La parte più importante di questa definizione è comunque il vivere insieme che è l'etimologia stessa della parola simbiosi e il vivere insieme ha certamente una connotazione sia temporale che spaziale. Ha una connotazione temporale perché significa che buona parte del proprio ciclo vitale deve essere trascorso nell'interazione. Pertanto fenomeni come questo, cioè l'impollinazione, non possono essere considerati dei fenomeni di simbiosi in quanto si tratta di incontri molto brevi, come anche non possono essere considerate delle simbiosi di interazioni di questo genere dove il momento dell'interazione è soltanto il momento in cui l'uccello si va a nutrire sull'ospite. C'è anche un aspetto importante di tipo spaziale. Vivere insieme significa anche proprio vivere insieme, quindi il livello di integrazione. Allora da questo punto di vista sono sicuramente delle simbiosi, per esempio i rapporti delle piante con i fitopatogeni o i noduli radicali che abbiamo appena visto, che sono delle interazioni prolungate nel tempo in cui i due partner sono molto integrati tra di loro, dove i microorganismi vivono addirittura all'interno dell'ospite. Non c'è dubbio che anche questa definizione molto più semplice di De Bari possa avere dei problemi di interpretazione, che io vedo fondamentalmente dal punto di vista spaziale, e cioè quale deve essere il livello di integrazione tra i partner per poter parlare veramente di un vivere insieme. E questo è il motivo per cui ho messo dei punti interrogativi su alcune di queste interazioni che sicuramente soddisfano l'aspetto temporale, mentre possono essere visti in modo diverso secondo quello che è il livello di integrazione. Ma di questo possiamo eventualmente discutere poi nell'incontro in diretta. Per riassumere questa prima parte, quindi abbiamo visto che nel mondo naturale ci sono molte interazioni, ma solo una parte di queste possono essere etichettate come simbiosi. L'altro punto è che indipendentemente dalla definizione che vogliamo dare a questo termine, quindi sia una definizione più semplice come quella originaria di De Bari, sia una definizione che limiti il fenomeno della simbiosi soltanto al mutualismo, dobbiamo ottenere in considerazione il fatto che in natura ci sono molti gradienti e c'è una variabilità che dipende molto dai fattori ambientali. Quindi sia per quanto riguarda la valutazione dei benefici e dei vantaggi per i partner, sia quanto riguarda i livelli di integrazione, a volte le interazioni che noi stiamo analizzando potrebbero non rientrare nella nostra definizione di simbiosi. Questa riflessione sulla parola e sul termine simbiosi è importante perché bisogna anche chiarire di che cosa stiamo parlando e che cosa intendiamo con questo termine, però quello a cui vorrei arrivare è quello che è condiviso da molti ricercatori essere il vero e profondo significato biologico del fenomeno simbiosi e cioè la simbiosi come una fonte di innovazione. Questo aspetto della simbiosi è strettamente correlato con i processi dell'evoluzione biologica e quindi ricordo brevemente che l'evoluzione biologica è data da un processo di generazione di diversi fenotipi che possono avere diversi gradi di adattamento a un determinato ambiente e sarà proprio questo ambiente attraverso la selezione naturale a fare da filtro e quindi selezionare negativamente gli organismi che sono meno adatti a sopravvivere in quelle determinate condizioni ambientali a favore di altri fenotipi che invece saranno favoriti e che potranno trasmettere i loro geni alla progenie. Quindi il meccanismo della selezione naturale è molto importante perché indirizza l'evoluzione ma è evidente che rimane fondamentale la possibilità di generare nelle popolazioni una varietà di fenotipi su cui poi la selezione naturale può effettivamente agire. I due meccanismi più noti che sono in grado di generare una varietà fenotipica sulla base di un cambiamento nella informazione genetica e quindi nella sequenza del DNA sono le mutazioni e i processi di ricombinazione genica. Le mutazioni interessano in genere singole basi nella sequenza di DNA e possono portare ad alterazioni nella sequenza aminoacidica che quindi rappresenterà una variabilità fenotipica a livello di singole proteine che potranno essere diverse nel loro funzionamento rispetto alla proteina di partenza oppure se abbiamo dei codoni di stop che vengono generati nel mezzo di una sequenza codificante potremmo anche avere proprio la scomparsa di una proteina dal fenotipo dell'organismo. Si tratta di meccanismi relativamente lenti anche perché non sempre singole mutazioni possono generare effettivamente proteine con un diverso funzionamento. Il meccanismo molto più rapido è la ricombinazione genica in cui vengono proprio cambiati gli assortimenti di geni all'interno di un cromosoma e il meccanismo sicuramente più noto è quello del crossing over durante la divisione meiotica. Ovviamente la diversità genetica si osserva soltanto in quei casi in cui ci siano delle eterozigosi quindi cui gli alleli per un determinato carattere siano diversi tra di loro. Ora se noi pensiamo a questi due meccanismi come meccanismi per generare variabilità genetica e quindi di conseguenza variabilità fenotipica su cui poi la selezione può operare, ecco che possiamo considerare la simbiosi come un meccanismo che è in grado anch'esso di generare una variabilità fenotipica in quanto attraverso il processo di simbiosi un organismo acquisisce di fatto tutte le capacità metaboliche dell'organismo con cui si associa. Questo è un esempio che abbiamo già visto, quello dell'azoto fissazione nelle leguminose in cui possiamo affermare che la pianta attraverso un processo di simbiosi acquisisce attraverso l'attività metabolica del simbionte la capacità di fissare azoto atmosferico. È anche interessante il fatto che in queste simbiosi dove c'è un'elevata integrazione tra l'ospite e il simbionte in cui il batterio per esempio diventa intracellulare, questi simbionti batterici diventano una parte integrante della cellula vegetale e vengono trattati esattamente come se fossero degli organelli, tant'è che viene loro dato il nome di simbiosoma. Ci sono anche delle simbiosi che non solo consentono di acquisire le funzioni del partner dell'interazione ma che generano attraverso la fusione e l'unione dei due organismi partner delle nuove sinergie, delle nuove forme di vita. Un esempio tipico è quello dei licheni. Mi piace illustrare un po' questa caratteristica della simbiosi con questa vignetta in cui si vede bene come effettivamente organismi che separatamente hanno determinate loro funzioni, al momento in cui si associano in simbiosi, in sinergia, possono svolgere delle funzioni completamente nuove. Il licheni è uno degli esempi, ce ne sono anche altri e se vi interessano possiamo poi vederle nell'incontro via web. Vorrei adesso illustrarvi un po' di esempi di come possiamo vedere la simbiosi come un fenomeno che porta all'acquisizione di nuove funzioni, perlomeno dal punto di vista di uno dei due partner dell'interazione. In questa tabella vi ho messo per esempio alcune funzioni di tipo trofico, quindi delle funzioni legate al metabolismo e alla nutrizione che vengono acquisite da un beneficiario a partire da un donatore. La funzione forse più interessante e più utilizzata nei processi di simbiosi è la capacità fotosintetica, cioè la capacità da parte di alcuni organismi di convertire l'energia luminosa in un'energia chimica sotto forma di zuccheri. Questa capacità è stata molto sfruttata attraverso dei processi di simbiosi da organismi di varia natura, tutti quanti degli eterotrofi. Vediamo qui alcuni esempi di singoli protisti o invertebrati in cui troviamo dei simbionti fotosintetici in forma di alghe unicellulari come alghe del genere colorella. Qui vediamo giusto appunto il lichene in cui organismi fungini si associano con delle alghe unicellulari o dei cionobatteri. Qui c'è invece l'esempio delle simbiosi microrizziche di cui già vi ho parlato in cui i funghi beneficiano dell'associazione con delle piante fotosintetiche colonizzandone la radice. Questo è soltanto uno degli esempi di funzioni metaboliche che possono essere acquisite attraverso simbiosi da organismi eterotrofi, ci sono però tantissimi altri esempi, vi ho già citato l'esempio dell'azotofissazione. Per le piante e anche per molti funghi che crescono su substrati vegetali l'azoto costituisce un elemento fortemente limitante alla crescita perché è poco disponibile nell'ambiente. Non sorprende pertanto che proprio in questi organismi siano comparsi dei fenomeni di simbiosi con batteri azotofissatori che appartengono a vari gruppi. Quindi i rizobi abbiamo visto si associano alle leguminose a formare dei noduli radicali ma troviamo anche batteri del genere franchia che formano dei noduli radicali di tipo un po' diverso con altre specie vegetali oppure c'hanno batteri che possono associarsi, qui vedete l'esempio di una piccola felce acquatica che è la zolla, a formare delle simbiosi permanenti tra l'altro in cui il batterio viene trasmesso da una generazione all'altra. O ancora sempre dal punto di vista delle funzioni metaboliche qui vi ho elencato la produzione di nutrienti essenziali quindi cofattori e vitamine da parte di quei batteri che vivono all'interno di tutti i vertebrati nella flora intestinale oppure come endosimbionti intracellulari all'interno di alcune cellule particolari di insetti come per esempio troviamo negli afidi. Ci sono anche batteri funghi che sono importanti nella nutrizione del loro ospite in quanto sono in grado di degradare la cellulosa. In particolare nel rumine degli erbivori troviamo proprio una flora microbica molto ricca di questi tipi di microorganismi che consentono all'ospite di acquisire energia tramite la degradazione della cellulosa che è un polimero molto recalcitrante alla degradazione. Lo stesso tipo di associazione la troviamo per esempio anche con alcuni insetti come le formiche tagliafoglie che utilizzano proprio come substrato la polpa linea cellulosica. Se l'acquisizione di funzioni metaboliche è stata sicuramente una forza motrice importante per favorire l'instaurarsi delle simbiosi durante i fenomeni di adattamento agli ambienti ci sono però anche delle altre funzioni non legate necessariamente alla nutrizione che possono essere acquisite tramite simbiosi che sono altrettanto importanti. Io qui vi porto soltanto due esempi ma ce ne sarebbero molti di più. Uno è la bioluminescenza. Molti organismi che sono bioluminescenti sono tali in quanto si associano con dei batteri bioluminescenti del genere vibrio come vibrio fisceri e questa è una simbiosi che troviamo molto comune in alcuni pesci e come vedete qui in alcuni cefalopodi dove la bioluminescenza è importante nei fenomeni di segnalamento tra individui nei fenomeni di predazione. Un'altra funzione che viene acquisita attraverso simbiosi è la protezione da stress ambientali e gli stress possono essere più diversi. Io vi porto soltanto l'esempio della termotolleranza ma lo stesso tipo di protezione lo possiamo trovare anche nei confronti per esempio della salinità, della carenza idrica, degli stress di tipo biotico quindi nella presenza di patogeni e via dicendo. Il fenomeno della termotolleranza è stato messo in evidenza in siti geotermali in particolare nel parco dello Yellowstone dove è stato studiato per la prima volta questo fenomeno si osservavano piante in grado di crescere proprio in suoli riscaldati da queste pozze di acqua ad alta temperatura quindi suoli che arrivavano a temperature elevate in cui normalmente le proteine si denaturano e quindi le piante tentano a crescere. Queste piante come vedete crescono molto bene perché sono colonizzate da un endofita fungino che è una scomicete del genere curvularia in particolare la specie curvularia protuberata. Quello che si è potuto dimostrare è che proprio la colonizzazione da parte di questo endofita fungino cioè la simbiosi con questo endofita fungino che rende queste piante termotolleranti. La simbiosi può essere infatti interrotta sterilizzando i semi prodotti dall'ospite vegetale che in questo caso una monocotiledone del genere di Cantelium. Facendo crescere piante fungo separati tra di loro si è potuto constatare che entrambi sono sensibili a temperature superiori ai 40 gradi mentre ricostituendo la simbiosi la pianta con l'endofita fungino sono in grado di sopportare temperature anche di 65 gradi mentre qui vedete la pianta non colonizzata che a queste temperature stenta veramente molto a crescere. La simbiosi poi è più complicata si è scoperto che di fatto è una simbiosi tripartita in cui all'interno dell'endofita fungino esiste un microvirus che è di fatto l'elemento fondamentale in grado di conferire tolleranza non soltanto al fungo quando in associazione con la pianta ma anche alla pianta stessa. Quindi un caso ripeto molto particolare molto complesso. Quindi per riassumere questa seconda parte spero di avervi convinto del fatto che la simbiosi analogamente ad altri meccanismi come la mutazione o la ricombinazione genica è un meccanismo che è in grado di generare variabilità fenotipica e infatti un individuo può acquisire attraverso l'associazione con un altro organismo delle funzioni nuove che possono avere una forte valenza adattativa come abbiamo visto negli esempi precedenti. Questa capacità di sopravvivere nell'ambiente grazie a queste nuove funzioni sarà al vaglio poi della pressione selettiva in un processo di evoluzione secondo la teoria darwiniana. E dal momento che ho introdotto il tema dell'evoluzione vorrei passare proprio a illustrare un pochino più in dettaglio come la simbiosi abbia giocato un ruolo molto importante nell'evoluzione biologica un po' di tutti gli organismi e soprattutto nell'ambito vegetale. Un esempio eclatante dell'importanza della simbiosi nell'evoluzione biologica viene proprio dalla origine della cellula eucariote. Alcuni organoli della cellula eucariote infatti derivano da un fenomeno di endosimbiosi. In particolare un fenomeno molto antico è l'acquisizione di procarioti aerobi quindi con un metabolismo eterotrofo altamente ossidante all'interno di una cellula ospite il che ha dato origine alla comparsa dei mitocondri, gli organoli in cui avviene la respirazione cellulare aerobica. I mitocondri sono presenti in tutte le cellule eucariotiche trattandosi dell'evento più antico e successivamente soltanto nella linea evolutiva che ha dato origine alle cellule vegetali sono comparsi dei nuovi organelli che sono i cloroplasti, anche questi attraverso l'acquisizione di un endosimbionte, in questo caso un batterio fotosintetico del gruppo dei cianobatteri. Sebbene oggi si dia per certa l'origine di questi organoli attraverso un processo di endosimbiosi, si tratta tutto sommato di un'acquisizione abbastanza recente, infatti sebbene le prime ipotesi su un'origine dei cloroplasti a partire da cianobatteri venga già dal periodo tra l'800 e il 900 grazie alle intuizioni di questo ricercatore russo Mereshkovsky, il grosso cambiamento nella considerazione della simbiosi come motore di evoluzione è venuto grazie alla appassionata attività di divulgazione di una ricercatrice americana che è Lynn Margulis, che è scomparsa anche non molti anni fa e che negli anni 80 ha pubblicato un libro dedicato alla teoria endosimbiotica seriale come meccanismo per l'origine della cellula eucariote. A partire da questa rivoluzione che è stata portata avanti da Lynn Margulis sul concetto di simbiosi nei processi evolutivi, quello che i tempi più moderni e le tecniche più moderni hanno consentito di fare è stato di fornire ulteriori prove a favore di questa ipotesi che oggi come oggi è una vera e propria teoria e di mettere in luce alcune delle tappe importanti che hanno consentito la trasformazione di un endosimbionte, quindi un cianobatterio o gli antichi alfaproteobatteri che sono all'origine dei mitocondri, a vero e proprio organulo. Quindi noi oggi sappiamo che alcune tappe importanti nella trasformazione dell'endosimbionte originario in un organello vero e proprio stabile nella cellula eucariotica è stata la forte riduzione nel genoma dell'endosimbionte. Se infatti noi andiamo a guardare questo dato lo riporto soltanto per la trasformazione da cianobatteri e cloroplasti che è un evento più recente quindi meglio tracciabile rispetto all'evento più antico dell'acquisizione di questi alfaproteobatteri e la loro trasformazione in mitocondri, nel cianobatteri abbiamo indicativamente 4000 geni funzionali mentre in un cloroplasto come quello di Arabidopsis italiana al sistema modello vegetale abbiamo soltanto meno di un centinaio di geni. Ora inizialmente si pensava che questi geni fossero stati persi durante proprio la transizione da endosimbionte a organello ma le tecniche di sequenziamento dei genomi eucarioti quindi il sequenziamento del genoma nucleare delle piante ha consentito di rintracciare all'interno di questo genoma nucleare molti geni di origine batterica in particolare molti geni imparentati con i geni dei cianobatteri quindi quello che si ipotizza che sia successo durante questa transizione da endosimbiosi a organello e non la perdita di geni da parte di questo cianobatterio ma il trasferimento della maggior parte di queste informazioni genetiche direttamente all'ospite quello che viene anche chiamato oggi come oggi un inter kingdom horizontal gene transfer cioè un trasferimento di geni orizzontali tra organismi appartenenti in questo caso regni diversi è evidente che questo trasferimento di informazione genetica all'interno del nucleo della cellula ospite ha comportato una perdita di autonomia da parte di questi indossimbionti nella loro transizione ad organolo vero e proprio quindi attraverso questo trasferimento genico la cellula ospite ha preso controllo possiamo dire di molte delle funzioni che avvengono all'interno degli organoli quello che ci si può chiedere è se un evento di questo genere quindi una acquisizione di un vero e proprio organolo nuovo attraverso processi di endosimbiosi sia stato una tappa unica nella formazione della cellula eucariote quindi l'acquisizione di mitocondri e l'acquisizione di cloroplasti in particolare nella cellula vegetale sicuramente è stato unico l'evento di acquisizione di cianobatteri e la loro trasformazione in cloroplasti anche se si ipotizza che in questo processo siano intervenuti anche altri tipi di batteri come per esempio clamidia che è un endosimbionte abbastanza diffuso a questo evento è stato anche dato il nome di endosimbiosi primaria quello che però possiamo osservare nelle alghe è stato un numero piuttosto elevato di eventi di endosimbiosi secondaria cosa si intende per endosimbiosi secondaria si intende che delle cellule algali quindi già degli eucarioti sono stati acquisiti come endosimbionti di protisti eterotrofi trasformandosi poi lentamente in organelli fotosintetici mantenendo di fatto soltanto quelle capacità essenziali per portare avanti la fotosintesi quindi questo soltanto sottolineare come è vero che la nascita della cellula eucariotica e in particolare poi la cellula eucariotica vegetale è stato un evento unico ma da qui sono poi partite molte linee evolutive in cui si osservano nuovi eventi di endosimbiosi con la trasformazione di questi endosimbionti in nuovi tipi di organelli si tratta comunque di eventi piuttosto antichi che ormai hanno portato a una situazione stabilizzata quindi a organuli completamente ormai dipendenti dalla cellula ospite quello che ci si può chiedere è se ci siano attualmente in atto dei processi di trasformazione in organuli da parte di endosimbionti e vi dico subito la domanda è molto affascinante molto interessante ma non aveva una risposta semplice quello che noi possiamo sicuramente vedere dall'analisi delle simbiosi esistenti è che ci sono molte simbiosi permanenti quindi molte simbiosi in cui già l'endosimbionte è una parte stabile della cellula che lo contiene questo per esempio il caso degli endosimbionti degli afidi come di altri insetti in cui noi troviamo dei batteri intracellulari che sono trattati esattamente come un organulo cellulare all'interno di un simbiosoma si tratta di simbiosi permanenti in cui i batteri vengono trasmessi verticalmente da una generazione alla generazione successiva attraverso la colonizzazione da parte di questi endosimbionti della linea germinale e qui vedete molto bene questo tessuto particolare che è chiamato batterioma in cui sono contenuti i simbionti batterici questa come anche altre simbiosi permanenti sono caratterizzati dal fatto di essere delle simbiosi obbligate e quindi né il batterio né l'ospite sono in grado di sopravvivere separatamente gli uni dagli altri un'altra caratteristica molto interessante è che laddove ci siano delle simbiosi permanenti delle simbiosi obbligate noi osserviamo una forte riduzione nelle dimensioni del genoma dell'endosimbionte questo si vede molto bene in questo istogramma dove troviamo le dimensioni medie dei genomi di endosimbionti batterici obbligati come il caso degli endosimbionti degli insetti rispetto a degli endosimbionti facoltativi come possono essere i rizobi nei noduli delle leguminose o ciano batteri endosimbionti rispetto alle dimensioni di un batterio che vive di vita libera durante questa erosione del genoma questa riduzione delle dimensioni del genoma vengono evidentemente perse molte informazioni che sono importante proprio per condurre una vita autonoma e quindi l'obbligatorietà di queste simbiosi è anche proprio legata alla perdita da parte dell'endosimbionte perlomeno di molte informazioni genetiche necessarie per una vita libera ora se questa riduzione delle dimensioni del genoma è un fatto mai dimostrato per moltissime simbiosi diverse la domanda molto più difficile a cui rispondere e se questa riduzione del genoma corrisponda a un trasferimento orizzontale di geni dal genoma dell'endosimbionte al genoma della cellula eucariotica che lo ospita quindi un fenomeno analogo a quello che abbiamo visto nella transizione di alfa proteobatteri o di cianobatteri a mitocondri o a cloroplasti e questo ripeto è un discorso molto più complicato e per cui non esistono ancora delle risposte certe infatti è più facile ricostruire una storia quando questa ormai è arrivata alla fine mentre più difficile vedere dei processi in atto e quindi ci sono sicuramente dei fenomeni di trasferimento genico orizzontale anche tra individui che appartengono a regni diversi quindi quel fenomeno di inter kingdom horizontal gene transfer che abbiamo visto come tappa fondamentale nella formazione di cloroplasti e di mitocondri e questo trasferimento genico è stato osservato sia da genomi procarioti verso genomi eucarioti sia tra genomi eucarioti ma di organismi appartenenti a regni diversi questo è un esempio molto interessante in cui come vedete questi afidi hanno questa colorazione arancione molto brillante che è dovuta alla produzione di carotenoidi i carotenoidi non sono prodotti dagli animali e questi sono infatti gli unici animali che producono autonomamente questo tipo di pigmenti che normalmente devono essere assunti con la dieta chi produce carotenoidi li producono le piante li producono alcuni funghi i geni che sono responsabili della sintesi di questi pigmenti negli afidi hanno delle parentele strette con geni presenti in alcuni funghi e quindi si è potuta tracciare proprio l'origine dei geni presenti in questi organismi in questi insetti come derivati da un trasferimento genico orizzontale a partire da organismi fungini che verosimilmente interagivano strettamente con questi afidi va tuttavia detto che nonostante siano state fatte molte ipotesi che io sappia non è ancora stato dimostrato in maniera incontrovertibile un trasferimento genico orizzontale da un endosimbionte al suo ospite diretto e quindi rimane la domanda se effettivamente questo fenomeno sia un fenomeno in atto in alcuni dei sistemi di simbiosi conosciuti una ultima considerazione per quanto riguarda il significato della simbiosi nell'evoluzione biologica è che sia che parliamo di simbiosi permanenti sia che parliamo di simbiosi cicliche quindi simbiosi che si generano a ogni nuova generazione la simbiosi è un fenomeno che produce delle strutture chimeriche cioè strutture che mettono insieme componenti di organismi diversi esattamente come nella chimera la formazione di chimera la possiamo vedere a livello proprio organismico prendendo come esempio il solito di chene la possiamo osservare a livello di organi per esempio i noduli radicali che abbiamo visto più volte sono degli organi che contengono sia tessuti vegetali ma ovviamente anche il simbionte batterico azotofissatore a livello di tessuti abbiamo appena visto il batterioma degli afidi che è un tessuto specializzato contenenti gli endosimbionti batterici a livello cellulare abbiamo visto che la cellula eucariote origina come struttura chimerica ma addirittura a livello genomico perché nel genoma degli eucarioti noi troviamo delle sequenze geniche che derivano dall'ospite eucariote originario e sequenze geniche che invece hanno contribuito alla diversificazione dei genomi ma che vengono da altri organismi addirittura da procarioti è quindi evidente che soprattutto al momento in cui noi generiamo degli organismi che sono degli organismi chimerici dobbiamo anche trovare un nuovo modo per rappresentare l'evoluzione biologica siamo infatti abituati a pensare all'evoluzione biologica secondo gli schemi che sono già stati proposti addirittura da darwin in questo primo albero filogenetico e che vedono una comparsa unica della vita da cui poi si differenziano le varie ramificazioni in questa rappresentazione molto tradizionale dell'albero della vita tuttavia al momento in cui ragioniamo sulla formazione di nuove forme di vita attraverso processi di simbiosi dobbiamo pensare a delle diverse rappresentazioni come questa per esempio ma è soltanto una delle proposte trattante in cui a una rappresentazione ad albero si va a sostituire una rappresentazione a rete che metta in evidenza le intersezioni tra linee filetiche diverse nella comparsa di nuove forme di vita come abbiamo appena visto nel caso della cellula eucariote o nel caso di molte linee dei protisti fotosintetici verrà infine all'ultimo argomento di questo seminario che riguarda le possibili ricadute applicative della simbiosi e per questo farò riferimento fondamentalmente alle simbiosi nel mondo vegetale e mi ricollego in effetti sempre un discorso di evoluzione per sottolineare come la simbiosi abbia accompagnato fin dall'inizio la vita delle piante sulla terra e infatti nei più antichi reperti fossili che noi abbiamo già troviamo delle associazioni che assomigliano moltissimo alle simbiosi microrizziche attuali e si ipotizza che proprio la presenza di queste simbiosi nelle prime piante terrestri ne abbia consentito la sopravvivenza e poi la successiva evoluzione in quanto queste prime piante non avevano delle radici e i funghi simbionti con le loro ife potrebbero aver consentito l'assorbimento di acqua nutrienti soprattutto in queste prime fasi l'evoluzione successiva delle piante ha visto il mantenimento di queste prime simbiosi e poi l'arricchimento con altri tipi di simbiosi per esempio molto più tardi con le angiosperme le simbiosi azotofissatrici quindi non deve sorprendere il fatto che oggi come oggi la simbiosi soprattutto in campo vegetale sia un fenomeno ubiquitario un fenomeno estremamente diffuso e presente in tutti gli ecosistemi terrestri e questa estrema diffusione del fenomeno delle simbiosi riflette senza dubbio l'importanza di queste associazioni nella sopravvivenza delle piante negli ecosistemi naturali quello che purtroppo l'agricoltura industriale ha fatto negli anni 50 60 del secolo scorso durante la cosiddetta rivoluzione verde è stato di favorire quelle varietà di piante coltivate in grado di sfruttare al meglio la concimazione inorganica quindi i fertilizzanti chimici utilizzati in grandi quantità nella proprio nell'agricoltura industriale e sfavorendo quindi l'utilizzo di microrganismi come biofertilizzatori e promotori della crescita di queste piante questo ha portato chiaramente a un aumento nella produttività agricola che era anche importante in quel momento ma ha sicuramente impoverito i suoli agrari da questa componente importante di microrganismi utili alle piante quello che l'agricoltura sostenibile sta cercando di fare in questi ultimi tempi è proprio quello di recuperare queste sinergie queste simbiosi delle piante coltivate con alcuni microrganismi del suolo e sicuramente le associazioni più studiate e più utilizzate in questo contesto sono le simbiosi microrisiche e le simbiosi azotofissotrici qui è un esempio di un studio pilota dove vedete in condizioni di stress idrico la crescita di piante microrizzate rispetto a piante non microrizzate obiettivo importante quindi dell'agricoltura sostenibile è proprio quella di utilizzare microrganismi come biofertilizzanti o come anche promotori della crescita quindi biostimolanti o nella protezione di stress come in questo caso e qui per non far torto a nessuno vi ho solo messo giusto una serie di prodotti che sono attualmente in commercio e che quindi costituiscono anche una prospettiva economica non indifferente per nuove industrie nel settore e questo per esempio è una pubblicità di un sito di una ditta canadese dove c'è anche una tutta una spiegazione il background scientifico nell'utilizzo di queste simbiosi addirittura in combinazione tra di loro quindi qua sono dei prodotti in cui vengono messi insieme per la coltivazione delle leguminose sia in oculi microrisici sia in oculi di batteri azotofissatori del gruppo dei rizobi spiegando anche com'è che questa simbiosi tripartita quindi simbiosi tra pianta batteri e funghi possa portare a un ulteriore aumento nella produttività in campo agricolo ora queste simbiosi le simbiosi microrizziche e le simbiosi azotofissatrici delle leguminose sono state sicuramente quelle più studiate per molti decenni ma rappresentano soltanto la punta di un iceberg quello che gli ultimi anni stanno rivelando molto chiaramente e che associati alle piante così come associate all'uomo ci sono delle comunità microbiche estremamente variegate estremamente complesse in cui molte delle componenti possono svolgere delle funzioni utile per la pianta mi riferisco al cosiddetto microbiota di cui non dico altro perché approfondirete questo aspetto nel prossimo incontro con la professoressa bonfante dico soltanto che sicuramente una delle sfide future nell'ambito dell'agricoltura sostenibile è proprio la comprensione delle naturali interazioni che avvengono tra queste popolazioni microbiche e la pianta per poterne sfruttare per poterne utilizzare al meglio le sinergie quindi non soltanto alcune componenti come i funghi microrizzici o gli azotofissatori ma tutta la comunità nel suo complesso e con questo arriverei alle conclusioni riassumendo alcuni punti importanti di questo seminario prima di tutto la simbiosi che spero di avervi convinto da curiosità un po simpatica del mondo biologico deve essere visto invece come un meccanismo che è in grado di generare e ha generato in molte condizioni in molte situazioni delle nuove soluzioni soprattutto delle nuove soluzioni adattative e come tale ha avuto un ruolo fondamentale sia nella evoluzione biologica e nel funzionamento degli ecosistemi e quindi nell'adattamento degli organismi al loro ambiente da quando sono comparse le piante utilizzano queste simbiosi utilizzano queste sinergie proprio per meglio crescere meglio sopravvivere negli ambienti naturali e anche in quelli antropici e quindi sta a noi cercare di comprenderle al meglio anche per poterle sfruttare in un'ottica di agricoltura più sostenibile quindi migliorando la qualità della vita non soltanto nostra ma anche del pianeta e con questo vi lascio brevemente qualche riferimento questo libro in italiano che ho trovato fondamentalmente nell'ambito di zoologia qui ci sono alcuni video che sono interessanti c'è un link due in particolare sono molto semplici e possono essere adatti a una classe e qui ci sono anche delle domande alla fine del video un bravissimo video sulla ricerca sull'attività di divulgazione di lì marculis e poi alcuni libri alcuni riferimenti che ho utilizzato per preparare questa presentazione con ciò vi ringrazio di aver seguito questo seminario e vi do appuntamento al nostro incontro in diretta